Da sempre le donne africane camminano a piedi nudi e a testa alta, portando sulle spalle popoli, sogni e fatiche. Ogni giorno, guardando sempre avanti, ci impegniamo per dare pace, cibo, salute e dignità ai nostri figli e figli. Al nostro continente camminiamo con il mondo sulle spalle, ma i nostri passi sono leggeri. Sostieni la campagna per l'assegnazione del Nobel per la pace 2011 a tutte le donne africane. L'Africa che cammina merita un Nobel. L'Africa che camminiamo con il mondo sulle spalle, ma i nostri passi sono leggeri.